Salve a tutti! La radio è stata la mia vita e ancora oggi non posso farne a meno. Per questo ho scaricato l'app di Radio Video Music per portarla sempre con me e riascoltare anche, perché no, il mio popuri in onda ogni giovedì sera alle 21 sul canale Art Show di Radio Video Music. Allora scaricate l'app anche voi e non ve ne pentirete. Parola di Barbara Marchand mi ricorda qualcuno. Radio Video Music e Barbara Marchand vi augurano tante cose belle.